Sì, vediamo la neve del numero desnef della Ust di Ladins. Nel sfoglio di questa settimana si è vero con un bel retrato di Davide Vidal Farei con i colori dell'Aurora Boreale su Nescrepes. Nell'attualità viene annunzata la decisione della giuria del concorso interladino di poesia, il progetto dell'Unione di Gardena per una piatta web con materiei per ladini ad tutta la Valèdes. A moto e la piatta da un'altra, l'erga la Società da Monte del Trentin e Anna Facchini. o è nata di adozione che ha passato il testamone dal secondo mandato. Dalla piatta da Ampezz vediamo che il problema del gran predatore tocca anche la provincia di Belluno. Invece fanno ne mette tanti candidati della due liste del comune per le litazioni di 8 e 9 di giugno. Dalla piatta della Valbadia tolano fare la presentazione della neve opera dell'Oi San Vidal Farei per il Museo Ladin Castel de Tor. La benedizione del neve meso per il studafec dal plan de Mareo e i bia risultati di Bacchè in premier per il latte più buono e per la bestia più bella. La piatta da Fascia si è verce con la radunanza dell'Associazione Videda da Cristina Donei e sotto l'un articolo sulla festa religiosa per Don Massimo preve da vent'anni. Troviamo dopo la ricetta del chef Stefano Ghetta de Martini che la teniamo in corso per il Kral del Fasciacop. E a me vedono un bel evento fuori da Antar e indrezzato a Cateri Imprenditori. Il fotografo da Delba ne mostra si birra e tracce che si va adegnare con gli oscimenti di valuta. E da poi l'esperienza dei Bezzi e Bezzi della Scuola Ladina sarà fuori a Raions e Confins. Sarà sulla piatta da Fascia con la gustegola comedia della Mizzacoles con l'Unione di Ladins che invia a Zirapè prean sulla stazione da Neva Todesa fino al Santuario e con il retrato che sta uta da color che ricorda la Krauschecena. Tella aperta di Gardena le scritte che la scuola auta di Ortisei è in com'ai massa piccola per due studenti e che la popolazione è stata chiamata da ITE per avere informazioni sulla DAT. Sulla piatta del sport, le articoli del balone. Con la partita contro i Nones, c'è un buon fin per i Ladins. E Nautar che resona a De Roda, col giro della Teglia che ai 22 passerà fuori per Fascia per via da Selva e la Marcia Longa Cycling è un programma di Vintessie. Sulla Ush di Ladins, ogni vendor, potete trover la Neves da tutta la Ladinia. Per info e abbonamenti, potete vi ausere alla redazione di Fascia, Tecasa della Monieria Senzan, Telefon 0462 764545, Mail Fascia, sniecola, lausche.it Il Sfo Interladin, lente online sul sito www.lausche.it e la bottega del Sfoes di tutta la Valle.